buongiorno a tutti e bentornati sempre nel canale il culo cotto e mangiato con loro ovviamente abbiamo finito di fare le nostre pulizie e ritorniamo nel tempo anzi nel passato alla tasso di chi? alla salute della ciavaliera ma dai? ma dai? becchino e tasso alla salute della ciavaliera vai! quando si viaggia nel tempo nel passato con il resto del culo cotto e mangiato vai! nulla lo può fermare da stamattina un pochino di bimbo un po' spalmere la voce sta andando alla ciavaliera mio padre mi ha preso un chilo di amici un tiro! e dopo vi mando il video a quei amici mi ha divertito secondo mangiato Alla stessa le becchie, lei